Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. È iniziato il viaggio di Papa Francesco che è sbarcato in Ecuador domenica pomeriggio. Accolto calorosamente dal Presidente Correa, il Santo Padre nel suo primo discorso è partito subito con un invito al dialogo e alla partecipazione. Il Pontefice si è presentato come testimone della misericordia di Dio e della fede in Gesù Cristo, affermando come le chiavi per affrontare le sfide di oggi si trovino nel Vangelo. Nella giornata di lunedì il Papa è stato a Guaianchil per celebrare la messa nel Santuario della Divina Misericordia e nell'Omelia ha lanciato un accorato appello alle tante realtà familiari ferite, invitando queste a recuperare la gioia attraverso l'aiuto di Maria. Il Pontefice si è poi concentrato su tre parole in particolare che vanno imparate in famiglia, riprendendo un discorso affrontato in una recente udienza generale. Permesso, scusa, grazie. Piccoli gesti che aiutano a costruire, in particolare là dove è più forte, la sofferenza. La famiglia, ricordato Francesco, è l'ospedale più vicino, la prima scuola dei bambini, il punto di riferimento imprescindibile per i giovani, il miglior asilo per gli anziani. Riferendosi al miracolo delle nozze di Cana, il Santo Padre ha ribadito che il vino migliore sta per venire per ogni persona che ha il coraggio di amare e viene anche se tutte le possibili variabili e le statistiche dicessero il contrario. Rientrato in aereo da Guayaquil a Chito, Papa Francesco si è recato in auto al Palazzo Presidenziale Carondelet per la visita di cortesia al Presidente della Repubblica dell'Equador, Rafael Correa. Al termine dell'incontro privato, il Pontefice ha raggiunto a piedi la vicina cattedrale. Accolto dal Rettore, è entrato per un momento di preghiera davanti al Santissimo ed ha salutato i malati presenti. Successivamente è uscito sul Sagrato per benedire la folla che lo attendeva nella Plaza Grande. Oggi sono qui con voi che mi donate il giubilo dei vostri cuori, ha dichiarato il Papa, aggiungendo come il profumo di Cristo sia la nostra preghiera, le nostre buone opere, il nostro sacrificio per i più bisognosi, la gioia di evangelizzare. Sabato mattina nella residenza estiva di Castel Gandolfo, il Papa Emerito Benedetto XVI ha ricevuto il dottorato onoris causa da parte della Pontificia Università Giovanni Paolo II e dall'Accademia di Musica di Cracovia. Entrambe le istituzioni hanno voluto rendere omaggio a Joseph Ratzinger per la sua grande attenzione nei confronti della musica sacra. In questo modo è divenuto ancora più profondo il mio legame con la Polonia, con Cracovia, con la patria del nostro grande santo Giovanni Paolo II. Perché senza di lui il mio cammino spirituale e teologico non sarebbe stato neanche immaginabile. Così ha commentato Benedetto XVI in occasione dell'onorificenza. Sempre il Papa Emerito ha concluso affermando come la musica occidentale superi di molto l'ambito religioso ed ecclesiale, trovando comunque la sua origine più profonda nella liturgia nell'incontro con Dio. I cristiani del Medio Oriente non fuggiranno dalla loro terra, che è la terra in cui è nato Gesù, se davvero avranno il dono di vedere custodita la propria fede come esperienza dell'amore di Cristo. Con queste parole si è espresso il patriarca maronita Butrus Becara Rai in occasione della messa celebrata al Global Forum della gioventù maronita in Libano. Non c'è da avere paura, la tempesta passerà, proseguito il Cardinal Rai, aggiungendo che l'importante è rimanere radicati nella fede e non arrendersi. Prima di salutarvi vi ricordo che sulla pagina online in italiano di Salt & Light, salellucetv.org, potrete trovare ogni giorno notizie, approfondimenti e tutte le puntate di prospettive. È tutto anche per oggi, grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento con i programmi di Sale e Luce TV ed appuntamento a giovedì. Grazie a tutti.